Pop, prova Ciao Ciao ragazzi, mi sentite? Da un po' che non faccio una diretta dal pc Vediamo se funziona Prova, prova Prova Ciao Antonio, ciao Giuseppe Mi sentite? Prova, prova Ciao Silvio, Antonio, Marzio, Sergio Giuseppe, ciao a tutti ragazzi Ditemi come mi sentite Ciao, cantaci una canzone No, tra dieci minuti Presentano il nuovo Outel Evo 2 ragazzi Non so nemmeno se ho avviato Correttamente la live Bene, sto usando il microfono Della Rode Ok, fatemi condividere La live, intanto inizia a fare dieci minuti Intanto lasciate un bel like, mi raccomando Perfetto Puoi alzare ancora l'audio Pop, pop Prova Ciao Prova Prova Ok, ora è un po' alto Cioè, ditemi se si sente Se si sente bene Ciao Marzio Eh, sì Penso che lo acquisterò Prova Prova Alzzaro al massimo Ragazzi, vediamo Ora, come si sente? Sente meglio? Sta quasi al massimo Ok Ora dovrebbe sentirsi meglio Credo Ciao Enrico Ciao ragazzi Un bel like Minuto Arrivo subito Tempo di trovare il link della live Qualcuno può lasciarmi il link del video ragazzi Di questo video Di questa live Per favore Lasciatelo in chat Ho qualche problemino con Con le live Comunque molto interessante Questa Autel Evo 2 Ciao Natale Ciao Totor Totor 83 Ciao Chris Bene, 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 bene Allora, questo Autel Evo 2 Dovrebbe avere una cam Assurda Ho fatto un video qualche giorno fa E speriamo bene Non so perché non riesco a vedere La mia diretta No, non mi esce Perché non mi esce? Manneggia Ci siete ragazzi? Vedo tutto bloccato Ciao Vi vincio Ciao ragazzi Datemi il link di questa live Per favore Non riesco a A trovarla Allora Dal vivo ora Dovrebbe uscire Non hai il live stream In corso Perché mi dici sta cosa? Ah Santa pazienza ragazzi Santa pazienza Vabbè Ok Prova a ricaricare Niente Si vede, si vede Sì, però io non la vedo E' quello il problema Non mi esce Non so perché non mi esce ragazzi Manneggia Chi è che mi contatta? Non fa mandare il link Fantastico Vediamo se Stefania Attiva Vabbè intanto Vediamo che dita Mi chiede come va con le pompe Tutto bene Tutto bene Sergio Oggi è andata anche in offerta Di nuovo Quindi Chissà perché non me la fa vedere Ah ok Ora la vedo Sì Ciao Marzio e Vincenzo Ciao ragazzi Noi non mi è uscito il link Non me lo manda Ora sto aspettando Stefania Che si sveglia Con i suoi tempi Ovviamente Però Piano piano ci arriva anche Stefania 5 minuti E incomincia la diretta E la seguiamo insieme Se non ho chiuso la pagina Ma dovrebbe essere da queste parti Allora Quest'anno molto interessante Abbiamo questo nuovo auto e livo 2 Abbiamo il Vcopter Ho fatto il video anche di quello Abbiamo lo Skydio 2 Avremo il Mavic 3 in estate Quindi c'è C'è tanta roba Tanta roba interessante Uscirà un video di questo drone Tommy Penso che ora lo mostreranno Quindi ci sarà un bel Una bella presentazione Ciao Sebastiano Ciao Super Daniele Voi cosa ne pensate Il problema di questo auto e livo 2 Anche del primo E che non Non li vendono in Europa Quindi è un problema Riuscire a comprarlo in Europa Si fa tramite dei siti traversi Ma È un mezzo casino Speriamo che questa volta Vada meglio Il Power Egg Sì l'ho visto Mario Ma sinceramente Mi sembra un po' una porcata Il Power Egg X Mi sembra tanto fumo E poco arrosto Hanno scritto 3000 cose Poi non so quante ce ne saranno Davvero All'uscita Speriamo Ok Stefania mi ha dato il link Meno male che c'è Stefania Allora siamo in live Con Outel Evo 2 Bene Ok La metto su Telegram La metto anche su Facebook Cosa avete scritto intanto Ciao Michele Ciao Michele alle 17 Sì fra 5 minuti Ciao Fabio Ciao Palermo Bella Palermo Power Egg fa cacare Sì Per Pasqua va bene il Power Egg Però è un marchio E' un marchio che anche l'altro drone che ha fatto Non è che fosse un gran che Quindi meglio andare con i piedi di piombo su queste cose ragazzi Non comprate a scatola chiusa Aspettate che ci siano un po' di recensioni in rete Tanto non vi corre dietro nessuno Anche perché poi i droni appena escono Lo sapete Hanno sempre i loro problemi Quindi aspettate almeno che vengano sistemati Ciao Gennaro Ciao Destroyer Ciao Saro Saro Savarino Ciao Bene Quanti siamo in diretta? 30? 35? Non me lo dice Lo scopriremo Tra l'altro oggi è iniziato il CES Che non è una brutta parola Mostrano un sacco di prodotti tecnologici E' una manifestazione Una fiera Tipo Ok Ora metto la diretta Vediamo se ci riesco Allora scorporo la chat Così posso vedere Allora Apri chat in una nuova finestra E ok Fino a qui ci sono arrivato Ora Apriamo la pagina della Outelivo Trolliamo qua E vediamo se funziona Allora Vediamo Cosa devo fare Display Bene Mi vedete ragazzi? Qui dovrebbe esserci la chat Eccola qui la chat Bene Allora mettiamola qua sopra Tanto non ci interessano i commenti inglesi Ditemi se è riuscito a vedere Datemi un commento Ditemi se vedete Allora 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 Non vedo l'ora Consiglio di togliere le eliche ogni volta che finisci Sì con ogni drone sarebbe consigliato togliere sempre le eliche Mi chiede secondo te su Amazon si vedono delle versioni tarocche dei DJI però Ho sentito che sono molto buoni Versioni tarocche DJI Che cosa? Del drone? No non prendere i cloni Buonasera a tutti Ok quindi ora qui ci sarà la diretta Sto usando il microfono della Rode Quella che ho comprato a Natale Funziona davvero benissimo Sono davvero contento di questo acquisto Ciao Ema Ciao Gianluca Ciao a tutti Ragazzi un bel like Dai per supportarci Come sempre So che c'è chi fa le live a pagamento ragazzi Davvero siamo arrivati a fare le live a pagamento per gli iscritti Mamma mia che punto siamo arrivati Ok mi vedete ancora perché c'è poca luce spero di sì Allora sono le 17 ma non è iniziata ancora niente provo a ricaricare la pagina La premiere inizierà a breve E vabbè Manca qualche secondo E' un'attesa incredibile Secondo me sarà tipo un video di presentazione Non so se è una conferenza vera e propria Vediamo un po' Ciao Luca Monte Speriamo che lo commercializzino qui in Europa sto drone Che sia la volta buona che lo portano qui in Europa Ci siamo Bene Allora facciamo play Alziare il volume Volume di qua E' alzato Ok Devo un po' abbassare Bene Un minuto e trenta ragazzi alla premiere Grazie Arnaldo Non lo so Sergio Non lo so Sergio Ora vediamo un po' Cosa ci dicono in questo video Riuscite a sentire l'audio del play qua della presentazione Intanto mi arrivano le notifiche Delle offerte Un minuto e dieci Ok grazie Franco Grazie Fabio Vediamo Ciao Gabi Allora Stefania Amore offerte devo mettere Ma non vede che sto in diretta Stefania Ciao Stefania Pronte a stappare lo spumante Sì dai 40 secondi C'è un ritardo di 5 secondi Dalla diretta Qual è l'ultimo drone che avete comprato ragazzi Cerca Cerca se compagni di volo Zona Torino Wow Vediamo cosa si è inventata Autel Fim X8 Mavic Mini Fim A3 Mavic Zoom Con 2M Perché è rafforzativo La doppia M Meglio di capodanno 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Auguri a tutti ragazzi Vabbè Vediamo un po' che cosa ci mostrano Dai Autel Robotics Presence Metto sotto schermo L'evoluzione del volo Aspettate ragazzi Fatemi mettere Allora Io metto stop Così Intanto lo commentiamo Il più potente E avanzato drone Nel mondo E' arrivato Sarà vero E c'è il tasto che viene premuto 4 led Ok qualcosa è cambiato Apri il suo zainetto E cosa tirerà fuori Ovviamente il drone Che come il primo non è piccolissimo Però molto carino d'estetica Tre nuove camere E' il nuovo i frame Di volo Oddio esteticamente Non è che mi faccia impazzire Però A me ne è diverso Immagini riprese con Evo 2 Sì Lo faccio anche io Ogni giorno Track dinamico 2.0 Fantastico Questo ha sensori ovunque Intelligenza artificiale Per il tracking Vabbè ostacoli A Sensori ostacoli A 360 gradi Sensore ottico 40 minuti di volo Ragazzi 40 minuti Per un drone Grosso Sono tanti Sono tanti 8 nuove modalità di volo Come ne chiamo Vida Smartfly Video hdr Su tutte 3 le cam Mamma mia Radio comando piccolo Ma con display Incorporato Vabbè più potente Blablabla Drone richiudibile Cam 8k Ma che pc ci vuole Per dei video 8k Per montare video 8k Che video Che pc ci vuole Evo 2 pro Aspetta quello di prima Non era nemmeno Il più evoluto Questa è la cam 6k Con apertura regolabile Che paese è questo Sarà in india In cina Cam Vabbè Quest'altra versione Cam termica Più cam 8k La cam termica Eppure Quasi hd I jimbal I jimbal Sono tutti intercambiabili Perché a parte la cam Non cambia nulla Ora va di moda Sto fatto di poter Cambiare I jimbal Anche sullo zino 2 9 km Di range di controllo La velica Sgancio rapido Ci mancasse pure Allora Non ci sono restrizioni Di volo Quindi si può usare ovunque Vabbè Si può I vari profili Colore C'è sempre il tipo Che si arrampica Si sembra una ragosta Ragazzi Sembra davvero Una ragosta Evo 2.6 Series Wow Finisce così Bene No Che c'entra la Toyota Vabbè E comunque Voglio vedere una cosa Ragazzi Poi leggo I vostri commenti Fatemi ricaricare la pagina Ok Cosa Cosa ne pensate Di quello che avete Appena visto Ho aggiornato anche qui Tutto quanto L'evo 2 Equipaggiato con la cam 8k 48 megapixel L'evo 2 pro Con la cam Da un pollice 6k Con apertura regolabile E l'evo 2 Dual Quello professionale Equipaggiato con Sensore 8k Più sensore Termico Attualmente in produzione Il prezzo E la disponibilità Saranno annunciate Presto Ok Quindi per ora Non è stato comunicato Il prezzo Ragazzi Intanto lo lascio qui In sottofondo E leggo i vostri commenti Ok Gabby Ha eliminato Automaticamente Ho eliminato Io per sbaglio Il tuo commento Comunque ha scritto Vabbè Una cosa sui voli Riscriverlo Dopo Gabby Ho eliminato Per sbaglio Bello Bello Da lontano Sembra un Trattore Valpadana Il prezzo Ancora niente Ciao Davide Meglio Mavic Mini Vabbè sono completamente Diversi Cioè come paragonare Una panda A un trattore Secondo me La cam termica Non serve a molto Dipende Cioè ovviamente A una persona normale No ma per chi lo usa Per i pompieri Soccorsi eccetera Sicuramente serve Ciao Massimo Bella mio parere Michele ci vorrà Una bomba di pc Per montare i video Sì ma Già video 6k Per montarli Non so cosa serva Forse una RTX 270 Non so se basta Mauro dice La versione precedente E già è top Questo credo che sia super Io ho sempre voluto provarlo L'auto e livo 1 Ma non ci sono mai riuscito Si può stare ovunque Senza restrizioni Attenzione Cioè lui non ti da restrizioni Però poi ci sono le leggi Quindi c'è Devi sempre sapere Dove volare Dove non volare Video 8k Non so quanto Posa essere utile Un video 8k Magari per chi ci lavora Servizi fotografici Però per una persona media Anche perché Un video 8k Dove lo riproduci Cioè Monitor 8k Ce ne sono in giro Silvio Campa cavallo con stepi Starà dormendo Ma cosa significa Può volare ovunque Che non ci sono Non ci sono le no fly zone Sul drone Cioè lui Si arma ovunque Anche in aeroporto Poi Sei tu che devi Sapere dove puoi volare E dove non puoi volare Carino nuovo il colore Sì Tipo una ragosta A volante L'autonomia è da provare Sicuramente Sicuramente Dovremmo aspettare Qualche monitor 6k Altrimenti Ce ne facciamo poco Sergio Per montare video Così Penso che sarà 8k Vero Non penso che Stiano mentendo Perché dovrebbero Di fly Ha bloccato L'escrizione Ma di fly È un casino Pure le mappe Buggate Arancione Antigabbiano Bah Io Avrei qualche Dubbio In merito Però Quanto pesa Beh sicuramente Peserà un chilo O più Non è un drone Leggero 8k No ma ragazzi Non penso che sia Emulato L'8k Dai Penso che sia Comunque L'8k Reale Cioè È la sua caratteristica Principale Non deve esserlo Ciao Alessandro Ciao Ready One Range di 9 km Pepper Non 8 9 Comunque Gabby Prima si lamentava Delle restrizioni Proviamo a vedere Sul sito Della Autelivo Se hanno messo Qualcosa Oppure no Allora Sergio Ha scritto Michele Anni fa La mia scheda video L'ho pagata tantissimo Ora è una checca È la tecnologia Anche un iphone Lo paghi un sacco di soldi Dopo due tre anni Non vale Cioè vale molto di meno Salve GG Mamma mia Non so se oggi Qualche scheda grafica Può reggere L'8k Oppure no Ho qualche dubbio Più che altro Il editing 8k È pesantissimo Vediamo sul loro sito Se hanno messo qualcosa Ok Hanno messo qualcosa Vediamo Ivo 2 series Che inglese Che pronuncia Che pronuncia Inglese Vabbè Qua c'è il video Di prima Che abbiamo appena visto Attualmente in produzione Il prezzo E la disponibilità Saranno annunciate Più avanti Ok Però ci sono Le specifiche Tecniche Che andiamo a leggere Insieme Fatemi leggere i commenti Ragazzi Un bel like Mi raccomando Per supportarci Supportarmi E supportare Stefania Che sta dormendo In questo momento Meno male Che c'è Stefania Che mi aiuta Con le live Mi sembro Mavic 2 Soltanto con l'8k Eh oddio Cioè È già una bella differenza 40 minuti di volo Vediamo Vediamo un po' Sono sempre Stimate In condizioni Perfette Senza vento Senza Senza niente Però sì Non sono mai Quelle indicati Minuti reali Per me Dopo queste leggi È meglio il mini Vabbè Comunque Io non ho sentito Ancora nessuno Che è stato multato Per aver usato Un drone Come sempre Tutto il fumo Italiano Questo costerà Sì Sicuramente Costerà più di 1000 euro Il nuovo Mac Pro L'8k Se lo mangia È bruttarello Beh sicuramente Sono gusti A me non piace La scheda SD Costa più del drone Ah a proposito Che scheda SD Ci vuole Per reggere Il flusso dati Di un video 8k Ce ne sono Poi in commercio Grazie Silvio Silvio Mi sa che sei un po' Indietro con la live Sì esatto Cioè Lo puoi renderizzare 8k Ma poi dove lo riproduci Pare un trattore Grazie Ready go Go one Grazie Grazie Allora leggiamo Le specifiche tecniche Accettiamo qui Oramai Accettare sempre Video hdr Vabbè Video hdr Oramai Fa pure Il mio aspirapolvere Sensori di ostacoli Omnidirezionali A 60 gradi 9 km di range di controllo Video 48 megapixel Display incorporato Nel radiocomando E questa è una caratteristica Che apprezzo molto Nel Nei droni Autel 40 minuti Di Autonomia di volo Ma voi guardate Sto pazzo Come sta sulla cord Monta una batteria Da 7100 mAh Che garantisce 40 minuti di volo In avanti Cioè Asper Non ho capito 35 minuti In hovering E già qui iniziano un po' A ritrattare Su Sull'autonomia di volo Vabbè Poi c'è C'è un sistema Che Preserva la batteria Dall'eiezione Durante Il volo Del drone Cioè C'è un sistema Che evita Che la batteria Venga espulsa Automaticamente Dal drone Quando il drone Va troppo veloce Ok Poi Vabbè Foto varie Range di controllo Esteso Fino a 9 km Tanti sensori Tanti sensori Poi Poi Vabbè Usa tutti i sensori Qui c'è Qualche altro video Di esempio Non so perché Mi sembrava un po' fake Quel drone Che girava attorno Comunque Queste sono Le tre cam I tre sensori Quello base È 8k Ragazzi È quello Quello base Quello Pro E 6k Ma un pollice Come il mavic 2 pro Con apertura Variabile Vabbè HDR Lo conosciamo Tutti E questa è la cam Termica Invece Del dual Specifiche Ah ecco ragazzi Allora Il peso È di 1150 grammi In media C'è qualche Piccola differenza Tra le varie versioni Ovviamente Ovviamente il dual Pesa qualcosina in più Perché ha la doppia ottica Velocità massima Di 20 metri al secondo Tempo di volo massimo Senza vento 40 minuti Con il vento Non lo so Sicuramente di meno Memoria interna Di 8 giga Pochini Potevano mettere di più Specialmente per l'8k Avere una memoria interna Già da Da 64 128 giga Sarebbe stato Ottimo Però Niente Da fare Altre specifiche Tecniche E questo è il drone Aperto Smontato Qualche scatto D'esempio Realizzato con L'evo 2 Io sinceramente Non mi fido mai Troppo Delle foto D'esempio Che vengono Postate Perché possono Essere false Possono essere Modificate Possono essere Scattate con Qualche altra Fotocamera Beh indubbiamente Sono belle Questa però L'orizzonte storto Però Sì Ok Vabbè Un sensore 6k 8k Quindi E ovviamente Tanta roba E questi sono I tre droni Ciao Gianni 72 km orari Siamo sulla media Antonio Né più Né meno C'è Abbastanza Nella media Ragazzi Un bel like Mi raccomando Sia per il drone Sia per supportarci Fatemi leggere i commenti Apro la chat Voi vedete la chat In diretta Ragazzi Salutatevi Siete in diretta Tutti quanti Allora Chissà Il PS effettivo L'ho detto prima A Cremona Per intenderci Appena accende il drone Il GPS segnala Un'app da polizia Vabbè Ma queste Sì Sono cose Che vengono dette Ma che Intervengano Realmente E' un altro Discorso Secondo me Il Mavic 2 Zoom Resta il miglior drone Per uso Obbistico In commercio Anche meglio Del Mavic 2 Pro Evita ostacoli Come lo Sky Dio Non ha il beacon GPS Da portarci appresso Però ha sensori ovunque Quindi lievita Tranquillamente Mi è andato Ok La cam Ieri è utile Per andare a cinghiali Ma dai E' a forza Quello Non lo so Io il Mavic Mini E faccio fatica In valle Ad arrivare a 200 metri Poi non so Mavic Mini Ci è scommetto Non Fcc Ciao Brasile Gabi Xliquid Vabbè Questo Gabi sta discutendo Con qualcuno Bene Allora mostra Una rotta Ok Sì Vabbè Ma Rompono le scatole Su qualsiasi cosa Ciao Fabio Alessandro Che mare ha pompato Da paura Quel modello Qualche modello Ciao Giacomo Ciao Francesco Sono diretto Bene Giacomo Ciao Michele Salutami Ciao Ciao Giacomo Bene Bene Ok E questo era Il Levo 2 series Interessante Speriamo che presentino Qualche nuovo drone Chissà se anche DJI Presenterà Qualche drone Oppure no Ciao Sato 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 Viola Sei una ragazza Buonasera Cristian Ciao Stefano Il problema Dello Sky Dio 2 E che è prodotto Da una piccola azienda Che non riesce nemmeno A soddisfare Le vendite In America Quindi Pensate voi Come fa Ad arrivare In Europa Sky Dio Collabora Con Parrot Quindi in teoria Parrot Ha i mezzi Per portarla Ovunque Però non so Perché non investe Non lo so Forse 8k Può servire Per zoomare Le immagini Beh Quello Basta Un sensore Bello grosso Come megapixel Però Se 8k E tanta roba Ciao micchi Oltre che informarmi Condominate Tu Figurati Liquid Grazie Piernicola Vieni in Valle d'Aossa A trovarmi Mi raccomando Portati dietro Qualche drone Certo Chris Sicuramente Dalle tue parti C'è tanto spazio Per volare Ah ok Alessandro Beh io sono arrivato A 3 3-4 km Nel mio video Non mi ricordo Nemmeno più Fabio La frequenza Del mavic mini La cambi Dalle impostazioni Dell'applicazione Vai su Trasmissione radio E imposta Manuale 2.4 GHz Sono i primi Canali a sinistra Grazie Marco 8k Ma se facciamo Fatica Ancora a editare Postbordure 4k Sì Carlo Beh sicuramente Un drone Pensato per i fotografi Usi più Professionali Sì Il mio drone È quello Delle multinazionali Che ci tengono Nascosto Lui è il top È da un po' di tempo Che non mi esce più Nei video Nelle pubblicità Però È sempre lì Dietro l'angolo Ragazzi Un bel like Allora Dovevo vedere una cosa Allora Questo Vabbè È l'evo 2 Voglio andare Sullo sito Del chess 2020 Vediamo Se hanno messo Qualcosa C'è Ha un sito Il chess Vediamo Allora Cosa c'è Di nuovo Interessante In questo Chess 2020 Vabbè Ancora Non hanno messo Niente Io spero In qualche drone Particolare Innovativo Qualche roba Di dji Perché c'è Un panino Nel sito Del chess Ok Conferenze Vabbè Qui c'è Tutto il calendario Vabbè Insomma Se arriva Qualcosa Di nuovo Sicuramente Vi farò Un video Perché da questo sito Non si capisce Assolutamente nulla C'è un po' Di tutto Anche i panini Quindi Vedrò Vedrò Quando Quando uscirà Qualcosa Di interessante Ah Questo È un video 8k Lo vediamo Ragazzi Che dite Allora Questo è registrato In 8k Con Il Lautelivo 2 Ovviamente È compresso A causa Di youtube Però Si possono apprezzare I contrasti I colori L'esposizione È interessante Se non costa Troppo Come penso Bene Ok Sì ma Cambiate Inquadratura Dai Ok Anche la Insta 360 Ha presentato Un nuovo Prodotto Oggi Elsie Ma c'è davvero Chi fa volare Il drone Mentre si sta Arampicando Su Una montagna Lo vedo Fare in ogni video Di presentazione Di droni Beh sicuramente Ragazzi È da provare Come drone Sono immagini Che abbiamo visto Anche nel video Di presentazione Qui sono più 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 lunghe Versioni integrali Bisogna vedere Anche le nuove Smartfly Come funzionano Ma che sta facendo Questo È nulla Interessante Vediamo Che avete scritto Allora Ciao Elsie Meglio Mavic Di un Mavic Meglio di un Mavic Poco ma sicuro Beh però Bisogna vedere Se lo vendono O no Qui In Europa Sembra molto stabile Beh almeno da questi video Sì Hai visto Il mount per Mavic 2 No Non ancora A mio modesto parere Un'ottima cam Beh si puntano su quella Quindi penso che sia Il top di gamma Per quanto riguarda le cam Conosci gente che lo fa con l'anafi Cioè ad arrampicarsi e usare il drone È fantastico Io ho il mini Mi sa che tifo lo zino Guarda A me lo zino Dovrebbero inviarmelo In questi giorni Quindi Appena mi arriva ragazzi Ve lo recensisco subito Ciao Tony Gigi No Sono scaduti i coupon Non durano sempre Dovrebbero tornare Con i prossimi stock di droni Devi fare Funambolo durante le recensioni Sì Mentre sto sulla corda Faccio i video Mamma mia Non lo farei mai Ma davvero mai Ah sì Elsie Io pensavo che la Insta360 Presentasse Un nuovo drone Invece Invece no Cioè È una cam nuova Perché va così lento Internet oggi? Sì Non l'hanno messa nemmeno Sul sito ufficiale Complimenti Comunque È una cam Componibile Che ha presentato La La Insta360 Non è un drone Poi magari lo presenterà Nei prossimi giorni Non lo so Una domanda veloce Comunque interessante Cam 8K 6K Tanta roba Grazie Marco Grazie Bene ragazzi Allora Questo è l'Hotel Evo 2 Considerazioni personali Beh È decisamente Sovradimensionato Sovradimensionato Per l'uso medio Che dovrebbe farne Un utente normale Come posso essere io Come potete essere voi Che acquista Questo drone Quindi Non so quanto sia pensato Per Per l'uso Cioè Per la vendita Su larga scala C'è una cam 8K 6K Boh Sì Dark Angel Ha il diaframma Regolabile Sì Sicuramente Da provare Speriamo di avere Modo di provarlo Se arriverà Qui in Europa Oppure no Purtroppo il primo Non è mai arrivato Qui in Europa Ok amici Nulla Se nei prossimi giorni Presentano altri Drone al chest Vi faccio Al chest Cioè Non pensate male Faccio un video Una live Un bel like Per supportarci Amici Poi se volete Lasciate un bel commento Quando esce il video E ci vediamo Al prossimo video Ciao belli Vi voglio bene